oggi faceva caldo ragazzi di brutto ma adesso c'è un'aria confezionata accesa bella fresca confezionata ma che meglio deve beh beh ma l'ho messa a 15 gradi stasera si schiatta Gigi io sto fresco come una rosa ho fatto un bel doccione che noi erano due giorni che non facevo la doccia mi sentivo zozzo Gigi l'hai tolto sto lenzuolo ma va lui ha aggiunto qua pazzo non c'è nemmeno una cesta qua ha più buon ho fatto ho fatto resistere dove cazzo scappi tu quanto ho fatto qui ok le c4 ho fatto la c4 l'ho 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 tappi nana nana topi cammello magari cammello Lo so qui perché lo vuole Grazie Ah questo è il potere Ok Porca buzina Ma adesso è una bambina Tutta colorata Ma fa che cazzo potere Ogni giorno è una stronzata nuova Devo fare la missione col potere di Grayskull Ah qua ci sono i bariletti Comandere Comandere la sveglia di parlare Che c'è? Ah pensavo fossi io a non sentirlo Che c'è? Comandere Non mi senti? Non mi sento più commander Adesso? Adesso? Adesso si No perché avevo messo il PTT su Fortnite Il PTT? Sarebbe il push to talk Ah Eh vabbè è una palla potabile Uh nice Ah marviola Peccato che c'ho un R bianco Se lo vuoi Faccio questo se vuoi Ho fatto la lavastoviglie Domani devo fare la lavatrice E non sono da sposare ma ne? Eh a voglia Eh Ma dove sei la ritmuflo? Rischio Non lo so Sto pagando Ah io ero ancora qui Aiuto Oh qua c'è un bunker È aperto Chiuso Ah qua c'è un potere Chi lo vuole Ma Ma c'è una missione per parare Se pari colpi Perché ti dà L'hai preso ma niente No Sì io già ho preso Fa cagare Eh beh a me manca solamente il coso volante Come si chiama Dettaplano Dettaplano mi manca Devo solo parare i colpi Devo parare ancora Cento Unici colpi Ok Ok Mi son fallato Legno e pietra Infatti ho una balestra Questa è buona Anzi ho con la macchina La balestra è buona Cazzo C'è gente lì? Dove? Donde? Donde? Ok Sono scosti da qualche parte Clue? No quello non mi piace Era da solo Dove è andato? Ma se l'ha scappato Era solo Sniper Poi c'è un'altra palestra Uno scisdone Combat E shop Combat è il migliore Questo Dove è Cerberus? Eccolo qua Comandare Invidia Contro Cerbero No 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 o tocco di danno però lo troppo fuori tentato ho bisogno di pompa ma è fatto prenditi il corpo faccio il viola cos'è il combat viola lo venga a prendere dove dove eccolo preso ti sei preso un cd no niente vuoi cittadini? no sono cittadino qua ce la stanno baretti na 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 è lì è lì è lì ho 200 metri bisogno di un medikit però se riesco a trovarlo bene ma dovrebbe essere qui dove sto io aspetto allo sniper non si può modificare ok non si può modificare ma già fatto si è distruttivo ma non c'era trovato di scendini ma ne abbiamo lasciate la città dalla strada non ha trovati altri quando le scelte che è meglio di uno scendone solo allora dillo prima no dove finito lo scendone che lasciato a no eccolo qua c'è un altro qui dove ho sparato a casa voglio fatto 60 bene fatto nice oh bello il comat d'oro prendilo prendilo ma tanto ce l'ho sempre bianco però è pure io freschissimo qua c'è altro salto bianco ah date il tuo canuto lo scendino io c'ho un scendone oh vuole lo scendino no no a te ti serve ah si aspetta nemici in avvicinamento dove 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 c'è a niceosta eh c'è questo qui anzi prendi questo il combat mitico eh anch'io ce l'ho bianco io c'ho il medaglione della corsa infinita o uno l'ho fatto bianco 64 fatto grande fatto un altro macchina della questo sta qui come cazzo ho fatto dove andato c'è un medici se chi lo vuole mi servirebbe da stoccare gli scildoni ma c'è l'aerro macchina macchina si l'ho sentita facciamo il medaglione vedo uscirà un ice snu però qui c'è uno io non vedo niente si è andato via però spari da qua c'è un totto da dietro ahia funziona a questo uno è morto ah è mancato c'è uno là sopra commander eh sto cercando di prenderlo ah è là sopra c'è anche uno qui ho mancato si l'ho mancato ho mirato troppo in basso ma c'è gente anche la sinistra si si l'ho visti tranquilli fatto? devo ricaricare morti nice oh finalmente sono riuscito a migliorare il fucile lo stocco io c'è uno qua no no fatto laserato due da me qui ritorico uno morto forza vieni fuori ti aspetto oh si un amico è scappato un monster del povero eccolo da qua c'è un cecchino viola a me serve un movement che è il movement eh per correre secondo che vado a prendere anche l'antenna oh ha stato verde anche io anche io ce l'ho verde abbiamo lo stocco eh no per il potere della minchia come ti chiama commander questo è sui guanti eh no io no a piedi aspetta aspetta ah questi si questi si eh appunto medaglione nel giro con la macchina che palla ma vuole la macchina da 4 però da 3 che c'è qua in giro sono qui si guardalo morto morto mu cosa pensavi attento la macchina si oh oh pochino qui eh si dove qua dovevo curarmi aia porca puttana se riesco a curarmi nice dietro fatto fatto tanto la macchina qui sotto dai 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 grazie passiamo 3 contro 1 io lo seguo questo ma 3 contro 1 adesso scappa per un'ora dove hai sparito dove hai sparito oh non lo so ecco l'ora aia lì ah è mancato 65 oh no oh è c'è stasera il miracolo di rile let's go let's go quante kill 10 kill lama lama pregiato mitico io 7 buono ma io c'è ho fatto la scaletta e 4 assist oh 23 kill dai buono siamo mica qua a pettinare le girafe o a smacchiare i jaguari oppure a fare le segale scimmie ha 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 c'è la renna con la cazza nel culo vediamo un po' si dovrebbe esserci ancora allora questa non c'è non ce l'ha ce l'ha avrà l'altra renna ti clappo ti clappo sto scendendo gente si lo sento dove è il tazzo stanno eccolo qua morto morto anche questo bisogno di fogliattini eccolo qua eccolo qua sopra 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 lo faceva il laser e questo ho trovato questo ma non è uno si è qua sopra si è sopra qualche parte mi sa che è sotto no no è sopra 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 come l'hai preso? è alzoro mi sa cadere alzoro mi sa cadere alzoro proprio dove alcee ti clappo ti clappo papà vero pucca cola cecchino preso questo è dall'uscilla tutto fuori ok ok cazzo è qua la cazza ma eccola nella doccia cazzo guarda il cazzo non è non altro ti clappo o ti clappo niente il potere non l'ho trovato cecchino eh non ce l'ho vivo io non c'ho passato come si deve io lo credo viola dal bot qua ah ecco adesso provate a comprare bravo 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 dov'è il bot dovrebbe essere a a sinistra della struttura dì l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto bravo 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 lo sniper ma sopra ci metto un paio commander e sta in casa in casa è blu qua ci sono due shieldoni eh no so ho già le cure ho tre medikit vabbè io c'ho due medikit piglio due shieldone dai eccolo qua lo sniper ah ma voi siete andati via oh non va chi è? ah no sono i bot sono i bot che stanno inseguendo dei tizi mi sembrano mi sembrano ma non c'hanno manco il medaglio eh boh no ma ci sono anche quei ci sono l'ari cosi va eh gente 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 si ho scappato nice bella il potere il potere il potere mi serve di magneto metallica questo vecchi tempi ma forse questa è l'unica carina che mi piace ti serve il potere mo? ti volevi il potere di magneto per fare la missione ne hai trovato uno in giro? eh ce n'è uno che ce l'ha se lo uccidiamo te lo prendi c'è gente dove sto io tanta gente arriva insomma ah eccolo questo colpo zero attenta la sinistra la destra ha saltato il proiettile attenta uno dove stanno comando? sto qui 186 ricarico ricarico aia fatto stiamo un po' circondati raga ma non c'è chi nato mi sono saluto il camion raga raga è buflino o no? raga è buflino o no? raga è buflino ma chi... allo faccia secondo che mi metto a riparo perché non vi posso salvare adesso io sono imboscato questo non mi ha visto c'è un casino del gente qui si diceva essere troppi uffle glg e di silo non tanto che faccio su quelli col medaglione sì no ma c'è c'è mocciso lo stesso dopo si finita i colpi però dove sono morto io c'erano ok carlo si era sonzo sapeva che fuori sceso ma è pieno di colpi a tutte le parti pure doveva portata vanessa si io voglio ok peccato per le corone ah vabbè certo che le ho provate muflì no no non posso riuscire non posso riuscire ma se c'è pure una figlia ovvio no senza sorpresa muflì pensa senza sorpresa non riesco a posizionarla non so se ti conviene qua c'è il medaglione ma una volta devi provare nella vita magari ti piace fa male va fa male all'inizio poi ti ha visto no arriva non ce l'ho a fare e sono anche in due sono in due le perde ma adesso aspettano che vai di nuovo a restare ma certo certo ma sempre sono ma delle cosa come che provo a curarmi quanti cittadini sono qua due dove sono morto io e ci erano tre tre cittadini eh i miei l'ho detto io dovrò arrezzarvi qua mamma che brutta roba sto cosa volante veramente è utile solo quando ce l'abbiamo noi guarda o le ragnatele o le cose tutte minchiate mettono tutte le volte concordo credo che avete perso tutto domani mattina viene di nuovo a scassarvi la minchia quella la lo so già quella che pulisce? si ah ma ne è un'altra perché quello solito è andato in ferie ma c'è che cazzo è già la sostituta ma che cazzo domani è sempre di mattina domani è la mattina di nuovo che devi fare? poi ci sono delle ceste vedete che vado giù qua pompa qua c'è un'altra cesta adesso grazie un'altra allora vediamo un po' se qua c'è ok cosa ci fa un pianoforte in cima della montagna? è solamente che ho trovato schifazze è stato quello buono ma adesso qua c'è questo cosa? un po' qua la zona della statua è stata toccata seppur parzialmente ma è stata toccata l'ustio ho visto gente là dentro il tempio questa zona va bene se non esce dalla zona siamo in un'ottima posizione sali qua sopra arrivo arrivo attenzione a non spogliervi troppo però due macchine tre macchine io c'è la non spoglierla se vuoi ah è vero che non ci sono le costruzioni ho detto santo attenzione macchina in arrivo no ha cambiato direzione dai battagliate tra di voi battagliate tra di voi l'ho provato ahia ma dov'è quello è il bot c'è qualcuno che mi ha sparato da qui non so di cazzo si si c'era qualcuno sulla statua è il bot quello lì ok ma sarà di chi pure il bot zippling preso no vabbè veramente nice grande macchina adesso siamo un po' in panino sparo 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 macchina da dietro si questa brimestina oh ti omuflo oddio buona madre oh 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 è di sotto pure la corona prendetele prendetele lì c'è l'arco mitico se lo vuoi no non mi piace questo stiamo no quasi il potere spari fatto dov'è che stanno c'è un altro lì sono in fondo preso fatto nice di play go ed è headshot 62 ne ho fatto al player in movimento verso destra fatto questo questo li piombo in faccia oh fatto ah no questo no c'è questo qui è provarmi ciao fantò e cam walker sono bello vai siamo tre contro due si e attenzione eccolo eccolo volano non lo vedo neanche io sta cercando di razzare vado no merda la ricarica è andato scappato tre contro uno l'ha scappato morto di sei morto e dai laia la 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 modalità diversa stesso risultato prei up figli dici